Speranza, speranza, diritto alla infanzia Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Per costruire un mondo migliore non serve alla ricchezza. Per costruire un mondo migliore non serve a provare il negozio. Per costruire un mondo migliore occorre tanto amore. Pariamo da male. Qui, nell'istrezzo di scarto, non conosco un ragazzino che non lavora. Io ho cominciato sette anni. Aiutavo il parente. Adesso sono sotto padrone. Trovo i 10 anni al giorno. A cucire palloni a mano. Sempre lo stesso lavoro. Mi rovino le dita e non imparo altro. In Pakistan si produce di tutto. Ma più di tutto fanno palloni di cuoio, da rugby e da calcio. I palloni che mi arrivano hanno i marchi più diversi. Molti dicono che il presidente di me fa molti che i tuoi più conti. parla con il tempo a seguire di adottare determinati attivamenti. E' un contesto che ci vuole volutare. Ognuno di noi non ha più modo di pensare o di vestire tutto suo. Perché abbiamo paura di non essere accettati dagli altri. Molto spesso il diverso viene discriminato e compatito. In sintesi, non capito. E' difficile compito di educarci e insegnarci che la diversità culturale non è un difetto, ma ha origini antiche e fa parte del bagaglio che ognuno di noi porta in giro per il mondo spetta alle famiglie e alla scuola che devono trasmetterci un continuo messaggio di uguaglianza e di rispetto reciproco verso il prossimo. In modo che errori del passato non si ripetano più. Il non accentare l'università altrui è come una barriera che ci rende ciechi e soldi e non ci permette il credere di sentire all'idea del muro che noi stessi abbiamo creato pensando di essere giusti e tutti gli altri sbagliati. Ed è questo che è uno schiavo per sempre. Anche quando cambiano i tempi, certe cose non cambiano male. L'anno di 11 anni, come tanti. A me va a toccare, andare in bicicletta e tornavo a studiare in scuola. E ora è il simbolo di tanti bombini che comunque apriva oggi di uno scuola e di uno scuola. E' costretta da valutare i nostri sogni come stai. A Stoccolma nel 1994 i bambini parla alla conferenza internazionale sul lavoro. Il pal mi diceva nessun bambino dovrebbe impugnare mai uno strumento di lavoro. Gli unici strumenti di lavoro che un bambino dovrebbe tenere in mano sono penne mantite. Abbiamo uno slogan a scuola. Quando i bambini vengono liberati diciamo tutti insieme noi siamo libri e vi chiedo di unirvi a me oggi per pronunciare questo slogan. Noi siamo LIDERI! Vesita, amore, gioia, libertà, pace. Vesita, amore, gioia, libertà, pace. Vesita, amore, gioia, 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 gio Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 . . a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. a tutti. . 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